bella a tutti ragazzi facciamo il nostro accesso a monopoli go dove ci aspetta una bella partita andiamo a vedere ragazzi cosa succede quest'oggi tanto ricompense gratuito abbiamo già riscosso ieri report tabellone ok sfida dei migliori amici siamo andati abbastanza male comunque va bene giochi di carnevale andiamo bello bello giochi di carnevale quindi qui dobbiamo schiacciare un tasto vediamo i tentativi esatti bloccano la pallina ok i tentativi sbagliati fanno cadere la pallina e dopo ricontrollarne la posizione ok ho capito come funziona quindi praticamente si va il primo va sulla sinistra praticamente quindi facciamo così il sistema 2 quindi adesso è semplice ah ne manca una andiamo a giocare un po per 10 vediamo se accumuliamo quelle palline station si vuoi in station vediamo che che becchiamo se lo scudo becchiamo 3 milioni comunque in qualche modo dovremmo accumulare quelle palline da qualche parte li troviamo infatti vediamo qua oh ne ho otto ok 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 quindi completando le varie missioni abbiamo oggetti da riscuotere quindi intanto abbiamo preso sta pallina e l'andiamo ad utilizzare altre 10 ottimo andiamo ci manca l'ultimo tiro lo becchiamo ora continuiamo dopo altri 70 gettoni o biglietti cosa sono ok ok quelli si comprano quindi quei gettoni si spendono sopra bene continuiamo a girare ruota colorata 10 titoli in galera ragazzi non basta nella realtà pure nel gioco mettiamo due dati uguali siamo forti bene altri dati altri 40 dati altri 30 dati ragazzi stiamo accumulando i dati grandissimi voglio vedere nelle costruzioni come siamo messi bene siamo messi abbastanza bene stazione da meraviglia si mega 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 no mega no solo 14 mila ragazzi che fare sbagliatissimo 9 milioni comunque li prendiamo accumuliamo altre ricompienze qua 8 milioni 40 dati di nuovo ah di nuovo in carcere no questa volta ci prega gruppo vacanze gruppo vacanza destra vediamo almeno di non bettare lo scudo ma che sempre scudo ragazzi siamo forti continuiamo ad avanzare un viaggio alla stazione buona 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 radina in banca vediamo stavolta di beccare gli anelli bene buono si si becchiamo andiamo lì 15 milioni altre ricompense sbloccate altri 8 oggettoni buono altre ricompense sbloccate anche qui andiamo avanti raccolgo 30 dati brene 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 dai che gli adesivi ci servono li dobbiamo prendere tutti li dobbiamo prendere 175 dati 7 milioni per quello spiderman andiamo avanti adesso possiamo mettere a per venti via ma non è possibile ragazzi mi arrestano sempre una giornata di arresti si deve chiamare questo video altro milioncino bene ragazzi direi che possiamo consumare questi queste palline che abbiamo in questo nuovo evento allora ok quindi andiamo con questa e questa no perché non lo sapevo ci ho messo due volte l'abbiamo in blu bene ha scrittato i dati dalle ore facile basta vedere le palline che cadono sotto e ci rendiamo conto dove abbiamo sbagliato quindi non è proprio difficilissimo capire 4 su 4 mamma mia 4 su 4 una sola madonna quindi lì c'è giallo e rosa già messi quindi c'è la verde qui c'è verde e giallo quindi c'è la rosa e qui la gialla mi serve un altro ladio un altro timbrino del cosola vediamo di accumularlo non solo tiro ancora special tabellone di valentina 6 milioni buoni tanto facciamo le costruzioni anche bocchiamo i gettoni no se ne serve uno ragazzi se ne serve uno allora intanto andiamo a vedere qua come si è messo parco dei cani c'è l'ora ragazzi c'è l'ora ragazzi possiamo andare avanti andiamo si sbracca una nuova città con questo vento in corso vai campi della cuttagna altri 60 5 milioni andiamo avanti stazione buono 11 milioni perfetto ecco qui anche il gettone che ci serve stiamo ancora avanti altri 15 milioni ok quindi andiamo prima a migliorare la nuova zona campi della cuttagna ok andiamo avanti stiamo girando proprio a vuoto per fortuna abbiamo già preso i gettoni quindi il gettone che ci serve ce lo abbiamo quindi va bene 8 milioncini qui buoni andiamo a vedere nelle vincite esercito 10 tiri così da fare eccole qua anche tre gettoni così da fare due giri a per 20 vediamo che ci dice fare un viaggio alla stazione più vicina come ultimo tiro direi buono distruzione andiamo ancora andiamo a beccare su padrone di vittoria 11 milioni bene ok finiti i tiri prossima soglia abbiamo 200 tiri gruppo vacanze andiamo a completare questo video finendo questi gettoni quindi ci mancava solo la gialla ok adesso abbiamo 7 cioè abbiamo 10 gettoni possiamo sbloccare un'altra ricompensa vediamo se siamo fortunati ti pareva che siamo fortunati noi ma perché ho fallito cazzo sbagliato a schiacciare il tasto scottibile 5 tiri su 5 mamma mia su 5 ne mamma mia ne prendo solo uno va bene così andiamo a spendere questi 28 milioni e poi ragazzi chiudiamo il video ragazzi vi raccomando iscrivervi al canale noi ci vediamo nel prossimo video bella a tutti che vediamo a tutti i